Acqua, aria, composizione ambientale, inerti, ricamo, segno grafico, cemento. Amiamo la materia del cemento, la sua versatilità, l'aspetto austero, essenziale. Abbiamo voluto aggiungere dei segni grafici legati al gesto umano della tessitura e del ricamo. L'idea di base è quella di interpretare la materia cemento, non di imitarla. In questo senso abbiamo disegnato un atlante di segni componibili in molteplici combinazioni. Le geometrie disegnate su ciascuna lastra nel loro insieme vanno a creare delle composizioni ambientali. Abbiamo immaginato dei segni che potessero mimetizzare la maglia rigida che si viene a creare dalla posa di ciascuna lastra. Abbiamo cercato un punto di contatto con la storia di Caelit, dando continuità all'estroversione creativa delle sue collezioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti.